Presidente, si avvia a conclusione questo 2014, facciamo un bilancio sullo stato di salute del golf italiano. Io non posso che confermare che lo stato di salute è ottimo, il golf va benissimo, abbiamo concluso l'anno con prestazioni magari di un livello appena più basso dei nostri grandi atleti, che non significa niente nel golf perché magari quest'anno ricominceremo con un ritmo ancora più forte rispetto al passato, ma nel contempo abbiamo incrementato nettamente la nostra presenza nello European Tour, siamo arrivati a ben sette nostri atleti nel Tour Maggiore e questo è un record mai raggiunto, è raggiunto soltanto da grandissime nazioni che sono le nazioni britanniche e la Spagna direi, per cui sinceramente c'è di che essere soddisfatti, nel contempo abbiamo retto perfettamente questo momento negativo del Paese, abbiamo praticamente mantenuto il numero di tesserati a quelli dell'anno scorso, non abbiamo avuto perdite e in questo momento non aver perdite è la cosa sinceramente più importante. Cosa dobbiamo aspettarci per il 2015? È un anno che sappiamo molto importante perché avrà due date in particolare molto significative per il nostro sport, cosa ci dobbiamo aspettare allora da questo 2015? Nel 2015 sicuramente avrà un Open a livelli altissimi, stiamo preparando un Open come non lo abbiamo mai avuto perché farà parte della manifestazione dell'Expo e costituirà l'ultimo evento sportivo prima della chiusura dell'Expo nel settembre dell'anno prossimo, abbiamo in mente che possano partecipare grandi professionisti europei e quello ci sarà, voglio dire, l'Open alla vigilia della decisione dell'European Tour e della Ryder Cup sull'assegnazione della sede per il 2022 della Ryder Cup in Europa. Noi ormai siamo partiti con l'intenzione di partecipare, noi pensiamo che ci possa anche arridere un successo fino a qualche tempo fa assolutamente insperato, stiamo lavorando su questo, per cui il 2015 se si dovesse concludere con l'assegnazione all'Italia di questo torneo importantissimo, beh, avremmo fatto bingo veramente. Vogliamo dire a proposito di Ryder Cup qualcosa ai più scettici, cioè a quelli che credono meno nell'opportunità che può dare un torneo come la Ryder Cup? Essere scettici su questo significa a volte non rendersi conto che quella è un'opportunità unica. Abbiamo instaurato un rapporto con l'IMG che è una società che partecipa all'European Tour con una percentuale altissima e l'IMG considera, perché lo considera proprio la Ryder Cup, la sede della Ryder Cup, un luogo di culto dove si dirigono moltissimi turisti golfistici mondiali, per cui se non si capisce quello che può rappresentare per una nazione, io voglio solo ricordare che dopo la Ryder Cup a Valderrama in Spagna, Valderrama è diventato una location unica, unica di questo genere e quindi la Spagna. E come ultima cosa, ma non ultima in ordine di importanza, c'è il discorso delle Olimpiadi. Roma e l'Italia vogliono candidarsi alle Olimpiadi della dedizione 2024 e il golf ormai è uno sport olimpico. Sì, appunto. Intanto noi ci prepariamo a partecipare a queste Olimpiadi del 2016, avendo, come dicevo prima, grandi atleti. Vorrei ricordare che insieme ai tre nostri maggiori atleti, due fratelli Molinari e Matteo Manassero, adesso al di là degli altri che sono anche molto forti, c'è proprio questo giovanissimo Renato Paratore che ha compiuto nei giorni scorsi 18 anni, giovanissimo, campione olimpico, il primo campione olimpico da quando il golf è ritornato alle Olimpiadi, cioè dopo il 1904 che è la data in cui il golf è scomparso dal lagone olimpico. Ci siamo ritornati, la prima competizione vera sarà nel 2016 a Rio, noi ci andremo con grandi atleti e ho grandi speranze. Dopodiché si vedrà se Roma dovesse conseguire e vincere anche la gara per le Olimpiadi del 2024, vuol dire che la Ryder Cup si abbinerà alle Olimpiadi del 2024 e sarà un trionfo per l'Italia. Allora è proprio il caso di dire che il golf italiano si merita gli auguri non solo di buone feste, auguri di buone feste e un in bocca al lupo per tutto il resto. Beh appunto, un in bocca al lupo che forse il golf italiano veramente merita. Grazie.